C'è invocation in mano? Sei mai cazzato, quindi no? Oddio, ma come si fa? 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 Fa niente! Fa qualcosa! Se tributa evoca 2 Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale Oggi siamo qui per parlare di un prodotto molto particolare Di cui nel pratico se ne è sempre parlato male Ma oggi il mio obiettivo è convincervi a comprarlo Il prodotto in questione è Speed Duel GX Duelist of Shadow Ovviamente qua partiranno le polemiche Eh, che cazzo sponsorizzi Speed Duel? È un gioco de merda? È un formato de merda? Ragazzi, questo lo sappiamo tutti Il fatto è che a questo giro la Konami si è impegnata nell'ereprint Ma andiamo a vedere Ovviamente però, prima di iniziare, vi ricordo che questo video Come tutti gli altri sono sponsorizzati da Card Game Corner Il mio sponsor Ah, voglio fare un attimo una parentesi Questa non è una marchetta Per farvi comprare il prodotto Perché Io di Maze of Memories Ne ho parlato male Vi ho sconsigliato di comprare il prodotto sigillato Ma di andare direttamente di singole Quindi ragazzi Non mi cagate il cazzo Grazie E quindi con il codice sconto 2023 cappello Potete ottenere il 10% di sconto Su carte singole E o prodotto sigillato Che non è soggetto ad altra offerta Inoltre, se volete liberarvi delle vostre carte di Yugi, Magic, Pokemon, Dragon Ball, One Piece, Forza Wheel e Digimon Trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare Ah ragazzi, Twitch qua sotto in descrizione In settimana io la sera streamo Quindi venite, passate e datemi il vostro Prime Grazie Detto questo passiamo subito allo spoiler Bene 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 ragazzi Guardate un po' che bella robina che abbiamo a questo giro Allora, all'interno possiamo trovare 8 carte rare segrete di 24 Quindi spero a questo giro di essere un filo più fortunato Grazie Poi 20 carte abilità che palesemente andranno tutte all'interno del caminetto E 100 carte comuni Che a questo giro contengono cose molto, molto, molto interessanti Parlando invece dei mazzi che troveremo all'interno Abbiamo quello del Re Supremo Jaden, mio padre Poi Night Shroud, Kamula, Tanya, Titan, Amnail, Kajemaru e Adrian Dzeko Allora, andiamo a vedere lo spoiler E non soffermiamoci sulla palta perché non ha assolutamente senso Andiamo sulle robe interessanti Tipo questa cazzo di Super Poli Che ovviamente common sarà in ogni cofanetto Poi, se siete sculati, ve la beccate pure Secret Io spero in un miracolo tipo di beccarne 3 su 3 Ma vabbè, dettagli Poi, come altra carta interessante, abbiamo questa Carta, a mio parere, cioè superiore persino a Super Poli Perché nel pratico Super Poli è una staple Quindi la possibilità che venga reprintata è alta Questa? No! E voi adesso mi starete chiedendo Ma cazzo, è una carta di merda? È un drago livello 2? Ma che cazzo ci fai? Allora ragazzi, sto palo di merda Stava a 15 euro nm E si gioca nel formato Edison In drago Praticamente reperirla era diventato Tipo una spesa insensata E quindi, questo giro, la Konami l'ha capito Che il formato sta iniziando a espandersi E quindi era ora di infilarla qua dentro Ma conoscendo la Konami, probabilmente ha detto Ah, ok Questo gioca questa? Ok, mettiamocela Senza considerare ovviamente il fatto che la carta costa E ovviamente si gioca in un formato Che sta prendendo tantissimo piede È molto più probabile che sia stata una cosa casuale che pensata Poi, andando avanti, nella sezione vampiri non c'è niente No Abbiamo una sepoltura sciocca che comunque male non fa Passiamo adesso alle Amazones che stavano salendo di prezzo Ragazzi, l'Amazones Queen nm stava sui 7-8 euro Cosa attualmente vergognosa e insensata più che altro Perché non si gioca Il mazzo Amazones fa schifo E quindi, vabbè Solo perché c'è monoprint facciamola costare Bene, grazie a Dio Con questa il prezzo scenderà Speriamo Allora, andando avanti, vabbè Abbiamo questa Che c'era anche da Retropack Ma vabbè Rota Che anche questo non è male Un'altra reprinta L'ennesima La 72esima Poi, vabbè Roba Arcidemone La roba Helios La roba DD Ma soprattutto c'è il DD di più bello del mondo Ovvero Questo Ha molto senso Mettiamola Nì Nel senso Me l'hai reprintato Ultra Da BLCR Non c'ha senso reprintarmelo anche qua A questo punto Mettilo solo qua E siamo tutti contenti La cosa bella è che Comunque ha una sua versione Secret Quindi Diciamo che Io già sto lì a sfregarmi le mani E a buttare soldi Perché Diciamo che Playset Secret Maggiore di Playset Ultra Ah, ovviamente Sempre del reparto DD Abbiamo anche il macro Che ha anche la sua bella versione Secret Che non sarebbe male Il problema è che siamo sempre lì Fissura è più forte A questo punto Avrei preferito che Qua mezzo Che non vedo Ci fosse anche una fissura Forse è questa? No Questa è di Boys Non credo Forse è questa? No No, questo è un nubiano Sarà questa? Non credo Questa? No Il primo sarcofago Questa Neanche Vabbè Poi abbiamo anche Uriamone e Ravel L'ennesima reprint Poi Roba nubiano Che Ragazzi Questa iniziava a costare Senza senso Però iniziava a costare Quindi ci sta una reprint Che l'ultima sarà da Glass e Lod Tanto considerate che è tutta roba monostampa Il più grosso Il più costoso Se non sbaglio dovrebbe essere lui Che vabbè Super è bellissimo Poi poi abbiamo questo renebbia Che comunque anche da Pack Se non ricordo male Secret Da Lod Aspettate che controllo Sì Da Lod Iniziava a costare Come anche quello da OP E tutte le altre versioni Quindi ci sta anche La reprint sua Più che altro perché Mi sembra di aver visto Che da qualche parte si giocava Poi poi abbiamo Vabbè Lui Bellissimo Ma quando Esiste da AST Da DR2 Dici ma scusa Che ci faccio con questo Anche se comunque questa è l'unica print A prezzo umano Perché le altre stanno tipo Messe bene parlo eh Una decina 15 euro eh Poi abbiamo Altra reprint Molto succosa Che è Allure Che ci sta Ma l'ultima reprint Era di Brother of legend Ed STP3 Che dovrebbe essere tipo Sì Pacchetto promo Di Speed Duel Quello c'ha poco senso Diciamo l'ultima reprint Vera È almeno di un anno fa Qua cazzo Me lo fai pure Secret Come faccio a Non comprarlo E poi basta Abbiamo Della carta per accendere il fuoco Nel cammino Vabbè ormai È marzo Siamo a primavera Le tenete da parte Poi per l'anno prossimo Se comunque c'è ancora il problema Del prezzo del metano Che aumenta Le prendete Le mettete all'interno del caminetto E Scaldate casa Ah ovviamente mi ero dimenticato Di altre due carte incredibili Che sono questa Che ma Mi hanno fatto tipo 62 mila versioni Ultimamente E anche Il cyber drago Non con quest'art Ma con l'altro Bene ragazzi Quali sono le carte costose Di questo set Cioè Le secret Cazzo Quali saranno Ebbene Drago totem Non c'è ragazzi Per chi gioca a Edison Può tagliarsi le vene Mi spiace ragazzi Mi spiace Ammetto Che quando l'ho visto Nello spoiler Ci ho sperato Più che altro Perché non avevo visto I video in anteprima Di Toad E degli altri Guardate L'unica cosa positiva È che io ne avevo un po' Li ho venduti tutti Prima della reprinta Grande Questo è marketing Allora Torniamo a fare i seri Perché questo è un canale serio Di informazione Abbiamo Fusione oscura Super polimerizzazione Che ovviamente È da recuperare Assolutamente Se non li sbusto Poi Heavy Heroes Malicious Fiend La fusione Poi Drago dell'oscurità Degli occhi rossi Diciamo che non è il drago metallico Quindi ci si fa poco Genesi dei vampiri Che è il boss monsters Del mazzo vampiro Nello structure E basta Poi abbiamo La regina Mazzones Che ci sta La donna dalle spade Delle spade Della Mazzones Ok Arcideone teschio Del fulmine Va bene Helios il sole primordiale Onesto Secondo me è pure carino Visto che esiste Solo super Se non sbaglio È common Poi abbiamo Omunculus dorato Che va bene Poi Didi corvo Che anche questo È da recuperare E Da buttare via Quelli ultra Poi Macrocosmo Palese Stessa cosa Stessa cosa Re Della nebbia Così tanto per il meme Leggendario maestro Di Jujitsu Va bene Il blu Grande Konami Vedo che Se scegliere Molto bene le tue carte Cacciatore dei vampiri Elemental hero Shining flare Wingman Ok Drago armato Livello 10 Me l'hai già fatto Ultra da Ghost from the past 2 E ultimate Da OTS Tipo farmi Non lo so Drago armato Livello 3 Livello 5 No Grazie Poi abbiamo Cyber drago Con l'illustrazione Alternativa Che comunque Ci sta Visto che la sua ultima Reprint in questa Versione secret È di LCGX Una roba del genere Quindi ci sta Comunque riproporlo Visto che L'avevano fatto ultimate E costa una cosa Come 50-70 euro Poi Allure Altra carta assolutamente Da recuperare Il prima possibile Soprattutto perché Dopo risale E Acqua Chorus Carta trappola Continua Che Pumpa l'attacco Allora ragazzi Che dire di questo prodotto Nel complesso A me piace Perché ci sono Molte reprint Che hai Assicurate nel pratico Esempio Superpoli E tutte le altre Quindi Nel senso Se dovete ricominciare Vi prendete tre di questo Avete tantissima roba Che può comunque Tornarvi utile In più potreste trovare Il power up Di molte carte Grosse Come ad esempio Corvo Allure E Superpoli Che fidatevi di me Il prezzo adesso farà così E poi Fra un po' Salirà a stecca L'unica cosa Piccolo messaggio alla Konami Così Tanto per ridere Ma Tipo la prossima volta Farmi scegliere a me Quali mettere come secret Cioè Va bene Avete fatto un buon lavoro Ma si poteva fare un tantino meglio Diciamo Avete cannato qualche carta Visto che per dire C'era anche rota E una bella rota secret Non è che fa schifo a qualcuno O anche la foolish Nel senso O che è bella Giocarla da cp super Oppure l'art Però Una bella reprint secret Potrebbe Potrebbe interessarci a tutti Apprezzo l'impegno Ma Questo È un monito Per fare meglio Anche la prossima volta Visto che Da come Da voci che girano Hai già annunciato Prodottino Speed Duel Per agosto Quindi Qua sono pronto A fare la recensione E vedere se È all'altezza di questo O se È migliore Detto questo ragazzi Fatemi sapere Qua sotto con un commento Cosa ne pensate del prodotto Se lo acquisterete Se andrete di singole O se andrete direttamente A fare in culo Pippone sul prodotto fatto E noi ci rivediamo Domani Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti